aspetta un attimo aspetta un attimo il foglio lo devi tenere per forza ok vai oh muoviti un po', fai un po' così grazie alla stessa cosa sì all'ombra andate beppe no, non ho detto vi gustavien stai riprendendo? sì brindisi brindisi sì 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 vai 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 perfetto noi negli anni abbiamo cambiato anche la tipologia di vino siamo partiti da... scusa vuoi che fa? spenghi con la falsa dai siamo qui con Giovanna Foronaria radica dell'azienda insieme a Antonio cosa ha trovato? allora quello che... Antonio no Antonio troviamo a Nozzole storica... non è ancora l'impianto già c'è il senso a scoppare? troviamo a Nozzole storica... non è ancora l'impianto senza stoppare la Nozzole fai la tendenza della... l'impianto stoppiamo divagli sta ferma non ci riesco